ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi ripropongo un bel video di pulizie motivazionali per caricarci e in questi ultimi giorni di dicembre allora iniziamo pulendo la stufa e io non starò a stressarvi tutto il tempo con la mia voce ma vi lascio alle immagini e ci sentiamo poi a fine video ciao a tutti iscriviti al canale ciao a tutti 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 i lavori come avete visto sono più o meno sempre gli stessi quelli di una giornata quindi ricaricare e scaricare la lavastoviglie oppure sistemare i mobili qua e là ciao a tutti purtroppo come dicevo anche in una diretta sono una disordinata cronica quindi tante volte ci sono da rimettere sempre a posto le stesse cose perché puntualmente le rimetto di nuovo in disordine magari dopo pochissimi giorni e infatti mi sto concentrando su una mia crescita personale e su una mia organizzazione proprio a questo livello e quindi lo farò insieme a voi piano piano vedrete i miglioramenti che apporteremo a casa a me personalmente e quindi anche tutta la gestione di quello che è comunque la casa la casa le pulizie perché purtroppo ho perso un po' diciamo la via e purtroppo soffrire di certe patologie di certe malattie non è semplice da conviverci sono demoni interiori con cui bisogna lottare e non è facile uscire non è facile ci sono delle volte che anche se io combatto per non lasciargli spazio lui se lo prende allo stesso quindi è difficile certe volte è veramente veramente difficile ma ce la sto mettendo davvero tutta quindi spero che mi sosterrete mi capirete e non mi giudicherete non mi giudicherete non mi giudicherete Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.